In che modo Manager Italia Lombardia vi ha supportato, supportato Croce Rossa Milano? Il vostro gruppo volontariato ci ha supportato per un paio d'anni in una crescita organizzativa. Siamo stati affiancati da due ex manager d'azienda che hanno con le loro competenze professionali e la loro esperienza ci hanno dato una mano a strutturarci dopo la riforma di Croce Rossa italiana che da ente pubblico ad associazione privata oggi organizzazioni di volontariato ci hanno aiutato a costruire addirittura l'attuale modello organizzativo. Croce Rossa Milano in particolare è una realtà che conta 900 volontari, 150 professionisti tra collaboratori occasionali oppure personale di staff e ha sei filoni di intervento correnti, è una realtà abbastanza grossa, potrebbe essere definita come dimensionale da una PMI e in una realtà come questa è una struttura marginale quasi assolutamente fondamentale per consentire anche una prosecuzione e una garanzia di attività. La programmazione su un territorio come Milano travalica i quattro anni del mandato di un organo associativo e parliamo di programmazione a 10-15 anni e quindi deve essere garantita una continuità. Dall'altro lato ha una complessità tale la gestione di un'organizzazione come questa che richiede delle competenze specialistiche. Noi abbiamo delle figure manageriali che sono dei volontari, sono persone in pensione che collaborano con noi in maniera corrente. Cosa significa anche per lei nello specifico, visto che è il Presidente, guidare un'associazione di questo tipo? Devo dirle la maggiore difficoltà e responsabilità è guidare una comunità di più di mille persone con aspettative, provenienze, esperienze assolutamente diverse dove 900 di queste persone sono dei cittadini che finiscono il loro lavoro oppure prima di iniziare il loro lavoro vengono in sede a dare il loro contributo. Quali sono i prossimi passi di Croce Rossa Milano? Noi andremo a consolidare il nostro intervento in favore delle povertà e delle persone senza dimora consolidando un'esperienza più che quindicinale. Andremo a migliorare e rendere efficiente il servizio di soccorso integrato con il sistema di protezione civile. In una città come Milano questo può essere un elemento qualificante. Dall'altro lato, ecco forse nei prossimi anni dovremo maggiormente consolidare quella che è l'assistenza sanitaria alle fasce deboli, siano esse persone senza dimora, siano esse persone non abbienti, siano esse persone migranti.